Quest'anno abbiamo una manifestazione che ancora si è arricchita di nuove presenze per quanto riguarda le aziende della nostra regione e quindi è un segnale importante perché vuol dire che la regione si sta muovendo molto bene sui mercati nazionali e sui mercati esteri. E' una regione che ha voglia di fare, di fare bene, di presentarsi come gruppo, di fare delle iniziative comuni e soprattutto di fare del loro vino, del vino che viene prodotto, un qualcosa di veramente interessante adatto a tutte le tavole, bianchi, rossi, rosati, frizzanti, ce n'è per tutti i gusti. Diciamo che ci sono vini che stanno crescendo molto bene, uno di questi è il Pignoletto e un altro il Gutturnio dei Colli Piacentini ed è sempre un vino molto importante, il Sangiovese. Non parlo del Lambrusco perché ovviamente il Lambrusco da anni è leader nelle esportazioni. Il vino fuori dall'Italia, quindi il rapporto con l'estero, è importante seguire quella strada? Assolutamente sì, tant'è che nella missione della nostra enoteca c'è proprio il fatto di avere presenza in tutte le fiere del mondo accompagnando in questo modo i nostri viticoltori, i nostri produttori, le nostre cantine. Diciamo che il 2018 per quanto riguarda l'export è stato un anno di conferme per l'Emilia Romagna rispetto al 2017. Conferme perché l'esportazione è stata di circa 322 milioni di euro dall'Emilia Romagna ed è una conferma rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda i principali mercati di sbocco del vino italiano, noi abbiamo che tra Germania e Stati Uniti questi due mercati rappresentano circa il 50% dell'export del nostro paese. L'Emilia Romagna è in quinta posizione tra le regioni italiane per export del vino. Ovviamente primo è il Veneto, poi seguono le altre regioni, il Piemonte, la Toscana, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna in quinta posizione. Quindi l'anno 2018 è stato un anno di conferme e di stabilità rispetto alle tendenze degli anni precedenti. Quanto è importante insistere sull'export? È molto importante perché oltre la metà delle imprese esportatrici di vino non sono esportatrici abituali. Quindi esportano occasionalmente, esportano poco e possono esportare di più, ma soprattutto la vera sfida per queste imprese è quella di stabilizzarsi sui mercati esteri, cioè fare del prodotto vino un prodotto che si trova permanentemente sui mercati. Questa è la sfida sulla quale stiamo lavorando in Emilia Romagna, non soltanto per quanto riguarda le imprese che producono e esportano vino, ma in generale per le imprese manifatturiere di questa regione. Cioè l'obiettivo che ci proponiamo è quello di accrescere il numero delle imprese che sono esportatrici abituali. Siamo da un dato molto bello, devo dire che è un dato in aumento, costante. Noi esportiamo più della metà del nostro vino, quindi per dirvi quanto è importante la proiezione all'estero. La prendiamo molto sul serio come regione, per cui non solo ci investiamo 6 milioni e mezzo di risorse dell'Ocm promozione, risorse in aumento peraltro in questi anni, ma soprattutto ci andiamo, nel senso che come regione supportiamo missioni di sistema insieme all'Enoteca regionale per fare quella diplomazia agroalimentare che è fondamentale in questi casi, perché aprire mercati, creare relazioni parte spesso da creare relazioni istituzionali. Questo vale sia nel Nord America, che è il nostro primo mercato di sbocco extra away, ma vale soprattutto in luoghi come la Cina, dove l'accompagnamento dell'istituzione del territorio è veramente cruciale. Vinitaly è un punto per far conoscere l'eccellenza dell'Emilia Romagna a livello di vino, però nello stand dell'Emilia Romagna ci sarà anche il cosiddetto food, quindi si potrà anche mangiare appunto per unire due punti importanti della regione Emilia Romagna. Il ristorante, dato che facciamo sistema, lo si riesce a tenere aperto, anche grazie ai ragazzi dell'istituto alberghiero di Castel San Pietro, che saranno lì, e quindi loro da un lato fanno uno stage e imparano, e noi dall'altro riusciamo a proporre i nostri prodotti, le nostre doppie di GP, insieme ai nostri vini. Peraltro la nostra è una cucina che, come spesso accade in Italia, non può essere disgiunta molto dai vini. Il fatto che abbiamo vini come il Lambrusco, che accompagna una cucina un po' grassa in Emilia, oppure che abbiamo vini corposi, come il Sangiovese, ad accompagnare la cucina romagnola, non è un caso. Nel vino c'è stato un investimento sulla qualità dei nostri produttori clamoroso, sia nelle campagne, sia nella trasformazione, sia nell'enologia. Inizia, questo ormai si sente nelle produzioni e quindi abbiamo il dovere di farle conoscere sempre di più e soprattutto di diffonderle sempre di più anche in Emilia-Romagna, in tutta la parte della ricezione turistica e alberghiera. Beh, l'Emilia-Romagna si presenta sempre molto bene. Abbiamo un unico padiglione dedicato all'Emilia-Romagna, dove mettiamo dentro tutta la produzione emiliano-romagnola, aziende grandi e medio-piccole, quindi una logica di sistema che funziona. Però al di là di questo, dove le aziende che presentano in modo forte e incisivo tutte le produzioni e le novità, voi sapete che le vendemmi si fanno tutti gli anni, quindi ogni anno questo rappresenta una novità e anche quest'anno ci saranno tutte le nuove produzioni. Ma al di là di questo è anche importante dare un messaggio, un indirizzo di cosa vuole fare la regione. Noi siamo partiti dal valore che diamo ai territori attraverso la via Emilia, che è un viaggio nel buon gusto, per passare alla sostenibilità, dove chiaramente l'impatto economico-sociale e anche ambientale è fondamentale. Quindi di conseguenza noi riteniamo che anche attraverso il turismo, che è l'altro tema di quest'anno, si possa dare valore alle nostre aziende che tanto hanno fatto nella capacità di valorizzare quei territori e fare accoglienza. L'importanza di una manifestazione come il Vin Italy per far conoscere ancora di più il vino, anche per creare una cultura del vino? Sì, voglio dire, il Vin Italy è fondamentale perché tutto il mondo del vino italiano chiaramente si raduna lì e voglio dire è un appuntamento imprescindibile e l'Emilia Romagna chiaramente, come dicevo prima, ha tanti elementi da mettere in campo perché è una regione di eccellenza e quindi di conseguenza non possiamo prescindere oggi da Vin Italy perché tutto il mondo della produzione italiana è lì, anche quello emiliano-romagnolo. Beh, l'esportazione sta crescendo per fortuna, anche l'Emilia Romagna è cresciuta, nel periodo 16-17 è cresciuta dell'11,3%, quest'anno ha mantenuto quel dato, con una piccola crescita ancora, quindi per fortuna che c'è anche l'export.